Grazie Quincy, anche i ragazzi dei saldiftati Bobby, grazie due mesi Gentilissime ragazzi, grazie mille, grazie mille Allora, la song l'abbiamo sentita La carica ce l'ha data È ora dell'ultimo game Della promo Due win, due lose Grazie Mick Grazie nove mesi caro, bentornato Abbiamo Twitch's Camarot Guy Allora, se non è Bravo quanto era Tyrl Lo reportiamo Ovviamente, abbiamo Akali Farà come minimo schifo ragazzi Un'altra qui in top Madonna, sarà quella di prima Boh Allora Mi guarda più please Ok Risponde Rat Guy Allora, la nostra team comp è una merda Deve essere onesti Anche la loro Va Diciamo che A livello di teamfight Secondo me Verrà una cacciata atomica Minions ha spawned Oh, mi mangia in faccia E c'ho fame Oh, non rimpi la sta panza Due voltini prima vela E quattro navioli Grazie Sì? Sì? Oh no Mi sentite anche voi Jerry Scott e Michelle Unziker Che si rivoltano Numero 47 52 What? Cioè, ma c'era una guarda Prima di arrivare in lane Ma chi l'ha messa? Topo Gigio? Bro, ma questo che cazzo è? Michael Jackson Ma avete visto Come si sta muovendo? Cioè, mi ha doggiato Sto fluttuando Allora, amico ratto Dobbiamo avere pazienza Io te Facciamoci pushare Ok Ma Se avessi avuto La mia hitbox A quest'ora No, adoggiavi Quel barilli In volo Un rovaginale Ma questa prevede Quando mi avvicino Per tirare il barillo Cioè, boh Vabbè Attendiamo Stiamo qua dietro Il microfono Non c'è Perché è andata Tuttane Forza Fieric Continua così Per la tua scalata Verso il master Good luck Ok C'è stato un po' Una piantina Che ha spoilerato L'arrivo Ecco Mettiamola così Non sto messo benissimo Le mani Ok No Va mid Alla Gianpietro Passando il fucile E Z E Z Dunque Il problema è che Graga si è sprecato Tantissimo mana Adesso che le ha messo La Q80 di mano Una volta era 60 Ottanta è tantissimo Cussi cartus Facciamo che Il campione Prevede Comunque Grazie Kmein Grazie gli otto Aludan Grazie ai nove Dei sette Anche stasera Si vola con il lato A Ma Ah bro Io Quello l'ho stunnato Però la torre Che cazzo è andato Ripacali XD Che avevo detto Che è una merda Ecco qua La profezia La profezia Tapsos Grazie Quattro mesi Bentornato Bello Alternator Almeno questo Ah lì è un attimo Scappocciato Abbiamo visto Eh vabbè Profezia Eh profezia S'avverata Ma pensa a Kartus Che è meglio Animo Ce l'ha Duro Ho visto In tantissimi Il cloro Vabbè Dai il cloud Favi Sono 21 mesi E sono ancora pochi Festeggerò Quando arrivo A 500 Grazie Gio Ma Per 21 mesi Bentornato Mi sembra un'ottima idea Mi sembra un'ottima idea Non dovrebbe Così tanta paura Tanto Vabbè Boh, attendiamo, tanto ci pusha Non vedo perché dobbiamo star lì a rischiare Vedo perché dobbiamo stare lì a rischiare Dobbiamo avere pazienza e basta qui Cioè, sono Paikex Aya Uh, bei danni Noi Gun Boy, grazie del Lost Spero di aver letto bene il nome, grazie mille L'oggetto mi si è messi male Vediamo questa Ok Oh Eh, vabbè Qualcos'altro Va bene, va bene Va bene così, ragazzi, va bene Ma che mai, da quanto che non passavi, come stai? Eh sì Eh, morde mai Sono in promo per il gold 2-2 E sicuramente potremmo andare meglio Sì, sì, sì no Sto prendendo il sè adesso. Ok. Ok, Bobby, ok! Let's go! Devo tirato insta ulti per far ultare Xayah. Purtroppo. Altro obiettivo per Team NEMI, ma vabbè. Ah sì sì, noi la picchiamo però. Shaco è sicuro di quello che sta facendo. Cioè. Non credo. Ma io vorrei capire... Vorrei capire cosa cazzo abbiamo appena visto. Sto Shaco c'è o ci fa? Oh ragazzi. Io non ho parole, sinceramente. Cioè non ho visto proprio l'utilità di dover picchiare la wave. Eh, mo' si fanno anche quello. Ma lo sappiamo che sono lì. Che gli diciamo? O ci andiamo tutti insieme o niente. Ok, eh... Stendiamo velo pietoso sulla ulti. Preghiamo. Fieric prete in chat, grazie. Fieric prete in chat, grazie. Ma serve una bella preghiera per sta partita. Dai, abbiamo a Cali, porca puttana. È anche bella farmata. Cioè. Diciamo no alle pubblicità. Guarda lì, guarda lì. Anche il flash del disrespect. Grazie, Salvatore, per 18 mesi. Bentornato, Salvatore, bentornato. Quella è all'otto. Anche quell'altra è all'otto. Ma... Ma che cazzo? Ma che cazzo ha fatto questa con sti oggetti della minchia? Oh... Lì dovevamo seguire. Aveva appena ultato, la massacravamo. Twitch, porca puttana. Il microfono non c'è, perché è andato a puttane. Minore 3. Unlucky, ragazzi. Ma Shako la sta facendo. È disarmante, ragazzi. Let's go, pezzi di merda! Scofate. Oh no, 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 no. Ho fatto sesso selvaggio al team nemico, altro che... Ecco. Io non comprendo i miei alleati, ragazzi. Allora. Night Harvester. Questo era un bel lato A. Devo carriare, ragazzi. Impegno. Forza! Poi abbiamo preso un sacco di soldi. Manca solo Ione. Allora, che è la win condition? Akali. Akali, zac 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 zac. Shako non serve un cazzo, non avevano dubbi. Twitch in late game fa. Fa il suo. Vabbè, botta una Nintendo Switch con lo scappo. Se venite, scoppiamo questi. E dopo è una cazzata, capito? Guarda qua che danno faccio. Guarda qua che danno faccio. Mi sono sciolto Graves, ragazzi. Ma, eh... Io... Vorrei tirare una maledizione di quelle che te le ricordi. Animo ce l'ha duro. L'ho visto in tantissimi video. La panza è calda. Siamo sicuri di questo? Io ho paurissima. Soprima loro è la disfatta totale questa. Eh, vabbè. Tutto guardato qua, ma che cazzo? Di qua stiamo parlando. Vuoi venire qui a prendermi? Non lo so. Ma che sono i fan questi, ragazzi? Ma vuoi vedere? Ma vuoi vedere? Chi difende? Twitch è bot? Ah, questo si lascia. Nomi? Sa che sa, eh. Sa che vabbè. Butter per Maid. Ambu Troncat. Smelly Pool del 9-1. Abbiamo pure le taglie. Ne si è messi un po' che male. Ovviamente questo, fatto dal team nemico. Boh, ragazzi. Super mega big jungle diff qua. Con Akali si può fare, eh, però. Epico. Ok. 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 Ci stava, però. Se ce la si fa, ce la si fa grazie ad Akali. Abbiamo bisogno di tutta la sua stupidaggine. Abbiamo bisogno dell'ignoranza fatta a Champion che è. E lo santa! Eh? Chaco, io amo first item. Oh, Gesù, ragazzi. Ma... Un ally has been slain. Ma che sta fa' questo? Ah, una main car, tu sa. Ok. Boh, vabbè. Serve riduzione pure, qua. Akali, carriaci tu, porca puttana. Abbiamo bisogno di te, Akali! Ok. What? Dai, ma sei serio che non l'ho presa con il barile? Ma sei fottutamente serio? Madonna, santa. Costinato Luxe, non Gragas. Grazie, Dimeryn per i quattro mesi. Grazie, Xerox per i 19 di Atriba. Grazie di 7. Saluto ragazzi di 18. Sto giocando in quattro. No, Twitch, auto-attacchi sui minion, no, però. Vabbè, vabbè. Ora andiamo tutti a prendere questo. P and Drake. Male, Pyron. Siamo 2-2. Cioè, in realtà siamo 23-20, ma loro hanno molti più obiettivi di noi e... Vabbè. Hanno anche un team migliore. Cioè, a dire che noi abbiamo Akali. Infatti, si vede. Diciamo che la presenza da Akali si sente. Ma sto Karthus, ragazzi... Ho un meme. Faccio anche prendo io la giungla, che è tanto qua. Qualcuno può sfruttare i soldi della giungla. Tanto Shaco. 100 gold in più, 100 gold in meno. No, detta sinceramente, non penso faccia una gran differenza. Facciamo che farmo io. Oddio. Chiedo perdono, me lo son perso. Uuuuh. Il ratto. Bip. Chi sta schicchera? No. Serve il team. Gli alleati. Nonché la carne da macello. Chiamata Shaco. Ecco la carne da macello. Mamma mia, Shaco. Che utilità. Quale onore averlo in team. Quale onore averlo in team. Queen. Anche questo mese le regalo il mio prime. Come va la scalata? Bip. Bip. Let's go, let's go. Eh, quello non lo killo mai nella vita con questi HP. ho fatto capisco. Bip. Il turismo ha sido distruttato. C'è stato. Sono inutile. Oh. Ma ragazzi Ma smettiti da ricorda sta gente Grazie Alcatraz Grazie mille caro Il dieci mesi Serve tutta la vostra energia per vincere sto game Ho visto in tantissimi video Due Oddio Vabbè Ho fatto la mia parte Quanto scrivono questi? Robrobi Grazie dei sedici mesi Bentornato Bensix Grazie dei due mesi Bentornato Dimmi ringrazio dei quattro Forza con sti sub Cosa? Mica Quattro inferno Qua Li massacro C'è li one tap Dai Akali Basta aspettare Akali 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 è sparita ragazzi Akali non viene Ok Animo C'è la duro Ho visto in tantissimi video Buonasera Mike Close Porca puttana I'm back Grazie Ve l'ho tante energie in chat Grazie Andrax Per i sei mesi Bentornato Abbiamo perso sto Drake Bruttissima sta cosa Vabbè Se Akali fosse stata puntuale Non sarebbe accaduto Ovviamente Vabbè Diciamo che il blue buff Lo prendo io Oddio Oddio il Twitch Twitch è partito a fare gli ambush Twitch è partito a fare gli ambush Ma Karthus Karthus fa veramente schifo Ma meno male Altrimenti l'avremmo già perso sto game L'avremmo già perso sto game Se Karthus fosse bravo Gragas Worka meglio in giungla E il bisogno Non ho capito Cercavi me Sai che è sbagliato La Nintendo Switch Oh no il muro Oh no lo scappo 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 l'avrei killato, forse muore easy forza oh jesus oh jesus che cazzo erano quei danni 1800 con quella schema bene, sappiamo qual è il nostro prossimo oggetto da comprare sappiamo il nostro prossimo oggetto, il link redaction quanti li abbiamo? io no, 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 no tu ci ce l'ha? oh, bravo fresco 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 che vi incapsula, lasciamo stare ragazzi, lasciamo stare dobbiamo prendere la soul e la drake soul porca puttana se avessimo preso il drake di prima mamma mia non mi ci far pensare l'abbò no, ci far pensare o no, la C'è una Stark e mei... E' diventato tankosissimo quello. Non ha preso Magic Resist? Ragazzi stiamo giocando... Oddio! Bravi tutti ha vinto lo sport! Se lo ruba... Eh si va bene... Better support wins... Chaco... Hidden unknown... Ah guarda... C'hai proprio ragione... Chaco ragazzi è una roba imbarazzante... Posso fare questo... Disperdo e... Basta... The game anche stasera... Beh... O facciandù finché... C'è... il senso... Che... Questo dovrebbe essere tipo Scalata solo troll pick Finché i troll pick Non riescono più a funzionare Eppure Qua che ne sei C'è una cosa in funzione In sto game Ma è che ragazza più Questo pike fa schifo al cazzo Cioè Vision imbarazzante Capisco Ecco Sparite le ward Oh E questa? Vabbè ragazzi Ma di qua son morto Di dash? Sì ma che cazzo è Sta roba che vedo qua Beh boh La coda Dovevo zoniare subito Ma porca troia Ma no ma ha ucciso graves ragazzi Ma che q di kartus Chi è lato graves Il winnable Guarda Guarda sciacco Non mi far dire niente Che è meglio Non mi far dire niente Che è meglio Così ne compro finché volete L'isir però Ah mi ha ucciso kartus Ho visto la kill di Vabbè Gioca a kane Ma perché razzle Non so manco cosa fa Kane Il gesto estremo Per rintare ancora di più Per sperare di essere carriati Eh ho preso un bel po' Sì Uccide anche kartus Sontra il granchio Bravo A tutti i morti Vabbè Tutto è bene Ciò che finisce bene Ragazzi Era la propria Il gold Non potevamo vincere La sua via Siamo onesti Ci abbiamo veramente creduto Di poterla vincere Cioè C'è un game A prima vista Winnable È ovviamente Perso Bene Bello Vediamo il grafico Dei danni Cosa dice Ovviamente Sta partita Sarà da mettere Sull'uncut Perché è giusto Che l'ultima partita Di promo Ci sia Ci mancherebbe Jungle difference Atomica Cioè Veramente Non giocate Shaco Ragazzi Guarda Tutte stelle fit Non giocate Shaco Non fate